Il gong allo Sheraton di Milano è suonato alle 20 in punto. Calcio, mercato chiuso, ora parola, solo ed unicamente al campo. Per chi volesse ancora porre correttivi c'è solo la finestra dei senza contratto, ovvero dei giocatori e svincolati. Per il Foggia il mercato si chiude col botto in attacco. Il club rossonero dopo gli ingaggi di Tunkara, Carillo e Vezzoni, perfezionati negli ultimi due giorni, si aggiudica l'attaccante Guinense, Carlos Embalo. Arriva dalla Cittadella, un giocatore che nella sua carriera ha vestito le maglie, oltre che dei Veneti, anche di Cosenza, Brescia, Lecce, Carpi e Palermo. Con il rosanero anche 12 presenze in Serie A. Contratto biennale e giocatore che arriva a titolo definitivo. Intesa intanto anche con Bacca, reintegrato a pieno regime. Il play resta a Foggia ed è pronto per Cudini. Non cambia aria, nemmeno Marco Friggerio. Il giocatore avrebbe gradito un'altra destinazione in una categoria superiore. Ma di offerte da prendere in considerazione non ne sono arrivate, nemmeno nelle ultime battute di calciomercato. Ora il Foggia gli proporrà il rinnovo del contratto. Niente da fare nemmeno per Auger e Nobile. Restano a Foggia, ma continueranno ad essere fuori rosa. In casa, Audace Cerignola, invece, l'ultimo giorno di calciomercato si è chiuso con la cessione del gioiello Aschic al Bari. Quattro anni di contratto e 300.000 euro nelle casse del club di Grieco. Ceduto anche l'angella al Rimini, mentre dalla Catania arriva il centrocampista Mattia Vitale, classe 2004. Gli Ofantini in mattinata avevano annunciato anche l'ingaggio del portiere lituano Titas Krapikas.